Sono Emilie Delivret, ricercatrice all'ISIG, e parlerò mercoledì 12 nel pomeriggio della giustizia popolare e della transizione giuridica, più particolarmente dei Rügegerichte nella Sattelzeit. La Sattelzeit è questo periodo cerniera che va più o meno dal 1780 al 1830-40. I Rügegerichte sono una pratica oggi dimenticata, però che è nata nel Medioevo e che vedeva una volta all'anno i funzionari dei diversi stati tedeschi, come Württemberg o Baden, venire nei più piccoli paesini e raccogliere le denunce delle persone, prendere il giuramento dei giovani, leggere ad attavoce le nuove legge. Chiaramente in questo momento di transizione giuridica con la codificazione, con l'unificazione del diritto, la razionalizzazione delle leggi, questa pratica sembra obsoletta. La mia ricerca si basa quindi su dibattiti parlamentari, su saggi di funzionari che discutono della necessità o no di mantenere questi tribunali popolari. Da alcuni contemporanei erano visti come un luogo di comunicazione importante fra lo Stato, le piccole comunità, fra le elite e il popolo. Altri però ne richiedono l'abolizione e dicono che non è più zeitgemes, cioè è anacronistico. E infatti vengono poi aboliti, però non prima della fine dell'Ottocento. Il mio principale interesse va perciò verso la percezione della transizione, cioè come i contemporanei sono stati consapevoli che erano in un momento chiave e che potevano influire positivamente su questo passaggio e gestire la transizione. Grazie a tutti.